La partita è difficile, lo sapevamo, l'ambiente è ostico, loro si dovevano salvare, quindi hanno giocato tutto per tutto, ci sta, abbiamo avuto qualche occasione per quest'anno in vantaggio, ma abbiamo sputtato. Ecco, una partita molto nervosa, come mai? Primo tempo qualche situazione al centrocampo, anche l'abito stesso è messo del suo, però poi secondo tempo abbiamo pensato più a giocare e fare la partita. Comunque il risultato è giusto, sì? Sì, sì, secondo me sì. Cambia qualcosa in questa... Siamo sempre prima, tre punti avanti, cerchiamo di mantenere questo vantaggio, di prendere per buono il lavoro che stiamo facendo, andare avanti e lottare domenica dopo domenica. C'è stato un momento in cui lo scordia sembrava padrone del campo nel secondo tempo, proprio soprattutto all'inizio di presa, poi? Ho detto ai ragazzi che dovevamo pensare solo a giocare, mettere la pallatiera, metterli in difficoltà solo con questo modo qua e fare la partita. Noi abbiamo bisogno di vincere, abbiamo fatto di tutto. Ok. Ok. Ok.